Con crescente successo prosegue il Festival di Musica Classica Città di San Giovanni Valdarno, tredicesima edizione, ormai è un cliché classico il nostro sottolegida dell'Accademia Musicale Valdarnese, direzione artistica del maestro Andrea Turini, che è qui con noi per presentare l'appuntamento del 25 di marzo. Straordinario appuntamento, avremo un duo eccezionale, veramente, che viene dalla Norvegia, il violinista Michael Sussman e il pianista Toreric. Il violinista è forse il più importante violinista norvegese, uno dei più importanti europei, è stato violino di spalla nelle più prestigiose orchestre europee, oltre ad essere un solista notevole, di grandissima carriera mondiale. Un evento d'eccezione dunque, che conferma anche una scelta ben precisa dell'Accademia, prediligere e proporre brani che di solito non sono eseguiti con particolare frequenza. Continuiamo la nostra esperienza nell'ascolto della musica di Debussy, del quale ricorre il centenario della morte, e infatti eseguiranno la sonata di Debussy, da buoni norvegese eseguiranno la bellissima sonata in Don Minore di Grieg, e poi uno spazio dedicato a un autore norvegese del Tardo Ottocento, con questa fantasia bellissima di di rare esecuzione, perché una delle caratteristiche del nostro festival è proprio anche di far conoscere brani di rare esecuzione. Dedichiamo degli spazi alla musica contemporanea, oltre che alla musica del Novecento, non storico, ma quello insomma moderno, ma anche proprio alla musica contemporanea, e poi alla ricerca anche di repertori del periodo romantico, classico, post-romantico, insomma, però proprio raramente eseguiti. Domenica prossima, 25 marzo, alle ore 17 in Pieve. Vi aspettiamo, perché veramente questo festival presenta artisti meravigliosi e musica meravigliosa. Grazie a tutti.